Bum, batte il sole, bum, bum, la vita gira, il mondo casca giù, il mondo va giù. Se l'inferno non c'è, il paradiso non c'è, il mondo per noi. Dentro me è un'immagine che ognuno ha dentro di sé, è il mondo che vuoi. Siamo al Residence Tridente qui di Bibione Pineda, siamo in mezzo a degli alberi meravigliosi, sono pini secolari, ci sono campi da tennis, piscine e la sera pensate c'è un personale di animazione che si occupa di far divertire un po' tutti, mamme, papà e anche bambini. Adesso noi vogliamo curiosare tra queste persone e catturare le loro canzoni del cuore, quindi intervisteremo un po' tutti, perché no, anche bambini.